Oggi viene aperta nel mio spazio espositivo Franca Pezzoli Arte Contemporanea Clusone la mostra di Tommaso Cascella, una mostra bellissima dove oltre a ricordare il rosso, il colore del Natale periodo dove ci avviciniamo, una mostra diversa dal solito perché ci sono parecchie opere di questo artista sia su carta che su tela e con materiali diversi. Vi presento Tommaso Cascella che è qui con noi e lascio lui la parola di spiegare queste splendide opere. Prego Tommaso. Spiegare dei quadri astratti è un po' difficile nel senso che ogni persona legge nel quadro un suo percorso personale. Il titolo della mostra è Universo eloquente. Per Universo intendo sia il paesaggio dell'universo, il paesaggio delle stelle, il paesaggio anche della Terra. In realtà è anche un paesaggio interiore perché noi siamo degli universi. Quindi una rappresentazione simbolica, una rappresentazione dove il colore ha una sua forza proprio di energia. Prima si parlava dei rossi natalizi, insomma il Natale non è casuale, il Natale è un momento del cambiamento della stagione. È il momento dove sotto quel bianco di questa neve di questi giorni ci circonda, sotto c'è questa energia vulcanica dei semi che stanno in attesa di nascere. Le tue opere, Tommaso, i colori li prepari da solo. So che tu vesti ancora i colori come veniva fatto nell'antichità, scegliendo tu stesso le materie per fare questi colori splendidi. E poi in alcune opere tu metti questi bellissimi, io sono innamorata di queste tue sculture di rame che sovrapponi alla struttura proprio del quadro stesso. Il colore, a me piace un po' fare lo stregone alchimista, anche perché i colori industriali sono poveri, sono fatti da un'industria che vuole economizzare. E credo che l'intensità del colore sia dovuta anche proprio alla quantità di colorante che c'è dentro il legante. Poi mi piace pensare, anche ci sono delle cose tridimensionali, che questo quadro sia come una porta, come un teatro, sia che possiamo vederlo dall'esterno come un teatro, con dei personaggi appoggiati, con dei personaggi che formano sulla superficie del quadro delle ombre che sono ancora un ulteriore rimando proprio al segno, alla pittura, quanto proprio entrare dentro il quadro. La carta è una mia passione, adesso sto preparando un lavoro proprio fatto soltanto di carta, che è una specie di calendario, fatto come dei piccoli teatri anche quelli, piccolini. Sono 365 lavori che formeranno un'installazione gigantesca, fatto con la carta proprio. La galleria resta aperta, a parte il giorno di Natale, che rispettiamo giustamente la nascita e il riposo, tutti gli altri giorni, compreso il primo dell'anno, con i soliti orari 10, 12 e 30, 16, 19 e 30. E auguro a tutti buone feste.